Anche queste sono sfide dell'oggi perché sostanzialmente ci sono una serie di problematiche che continuano ad essere oggi un problema femminile e quindi il fatto di poter avere però la possibilità di gestire i bambini all'interno di asili aziendali o comunque di avere soluzioni migliori anche determinate dalla possibilità di accedere a percorsi di prevenzione mirati, particolari, propri e specifici per il proprio stato di salute, possono costruire elementi che aiutano certamente la popolazione femminile a vivere meglio. Grazie per la visione!